Parma, 19 novembre 2017, terremoto a Parma, torna la paura in Emilia. Due forti scosse sono state registrate all'ora di pranzo. Il primo sisma, di magnitudo 3 marzo, è stato rilevato alle 13.10. Secondo quanto riportato dai sismografi dell'ING, l'epicentro è stato localizzato a 4 chilometri da Varano de Melegari, nel Parmense, a una profondità di 25 chilometri. Il secondo terremoto è di magnitudo 4 aprile, con l'epicentro localizzato a 4 chilometri a sud-ovest di Fornovo di Taro, a una profondità di 32 chilometri. La scossa più forte è stata avvertita nettamente in tutta la provincia di Parma. Segnalazioni anche da Milano, Genova, La Spezia e dalla Toscana. Nel giro di poco, dopo la scossa di 4 aprile e quella di 3 marzo, ce ne sono state altre di 2 aprile, 2 e 1, 2 giugno e ancora altre due di 2 aprile e quindi due ulteriori terremoti di 2 febbraio, e ancora altri lievi. In totale sono 11 le scosse registrate nell'area dalle 13 e 10 nel giro di due ore. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, come conferma la protezione civile. Verifiche sono in corso, spiega la sindaca di Fornovo, Emanuela Grenti. Diverse persone sono scese in strada, anche nella provincia Ligure. Molte le telefonate ricevute dai vigili del fuoco, ma non ci sono interventi in atto.